Beatrice, benvenuta a Reggio Emilia al Campo Volo. Sei pronta? Prontissima. Senti, hai scelto tu o ti hanno fatto un regalo? Mi hanno fatto un regalo. Sì, brava. Senti, perché ti hanno fatto questo regalo? Non lo so. Non è perché si vogliono liberarti. No, sapevano che mi piaceva, quindi mi hanno fatto questo regalo. Perché voi non lo fate? Scusate. Sì, abbiamo finito il budget. Allora, in sostanza, mandateli come taglia e poi fate voi. Giusto, giusto. Va bene, dai. Senti Beatrice, tutto chiaro cosa andiamo a fare? Tutto chiaro. Andiamo su, eh, degli alfini. Meglio. Quattro mila e due. Quattro mila e due, facciamo un bel minuto abbondante di caduta libera. Ci divertiamo, io starò davanti a te. Ok. Sorridimi. Certo. Se ce la fai, sennò puoi anche urlare nel caso. Ok. Io e Lucio ci adattiamo. Se tu urli, urliamo anche noi, no, Lucio? Cosa? Ho detto che se lei urla, urliamo anche noi nel caso, va bene? Vai. Ti lascio con Lucio che finisce di imbragare. Ciao. Che addirittura. Ok. Ciao. Ciao. Sì, è fatto bene. Aspetta che... Buona notte. Buona notte. Buona notte. Buona notte. Bellissima. Oh, mi hai venuto a quel paese, Maria. Com'è? Era per i miei amici. Infatti, ti ho fatto anche un casino. Grande. Buona notte. Buona notte. Buona notte. Buona notte. Io sono sempre io l'ultima a uscire. Aspetta, ti siamo ancora agganciati, cara. Vai. Non rimaniamo così. Ho un po' di foto così. Sì. Vai. Aspetta che ti apre Lucio, e vai!